E' la vigilia di Salernitana Napoli, il derby che in Serie A si è giocato solo una volta o più di 70 anni fa allo Stadio Vestuti, domani si giocherà allo Stadio Arechi. Stefano Colantuno ha parlato in conferenza stampa, ovviamente ha detto alla mia squadra servirà la partita, servirebbe la partita perfetta, una partita in cui non si può sbagliare nessun dettaglio, per cercare di mettere in difficoltà la capolista, la squadra che gioca meglio in Serie A, la squadra che è stata costruita a studiare per vincere lo Scudetto. E dunque servirà una Salernitana concentratissima, Gagliarda, disposta al grande sacrificio pur di cercare di limitare il Napoli, senza però, ha detto Colantuno, rinunciare a giocare senza pensare che una partita in cui non abbiamo nulla da perdere, sarebbe l'atteggiamento mentale sbagliato. Ovviamente il tecnico Granata è stato molto abbottonato sulle scelte di formazione, anche se ha fatto trapelare qualcosa, a centrocampo con Obie e Casanosso non al top, l'eroe di Venezia, Schiavone, potrebbe trovare posto dal primo minuto, ovviamente si parte da Ribéry e si riparte dalla difesa a quattro in cui potrebbe restare ancora fuori Gagliolo. Con Zortè invece confermato sulla fascia destra. Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Stefano Colantuno. Ma sai, il Napoli, al di là di questi due calciatori che sono straordinari, ci mancherebbe, ma il Napoli è un collettivo importante, non è solo questi due giocatori. E quindi per mettere in difficoltà il Napoli, per cercare di contenere la grande forza che ha questa squadra, che tra l'altro sta in un momento di grazia, ma è da parecchio che sta in un momento di grazia, perché il campionato le ha vinte quasi tutte, devi fare una partita da squadra, devi fare una partita da importante, non puoi sbagliare nulla perché sono forti, c'è poco da fare. Però da partita devi provare a giocarla con quelle che sono le tue caratteristiche, con quelle che sono le tue qualità, cercando di andare a lavorare molto nei dettagli, perché secondo me i dettagli in questa partita, per quello che riguarda noi, faranno la differenza. Ci vogliono una serie di ingredienti, però ripeto, la partita va giocata, non puoi pensare che il risultato è già scontato, perché faremo un gravissimo errore. Così come faremo un grande errore se inconsciamente penseremo che non avremo nulla da perdere. No, c'è sempre da perdere, anche se il Napoli oggi insieme al Milan è la squadra più forte dell'otto, perché è prima classifica. Però noi la partita dobbiamo pensare a giocare con quelle che sono le nostre qualità, con quelle che sono le nostre caratteristiche, sapendo che dovremmo fare grande sacrificio, ma in questo campionato se non ti sacrifichi non porti a casa nulla, al di là dell'avversario. Io credo che la squadra respiri quest'aria, perché lo sanno bene, che ci sono delle partite che sono diverse dalle altre, le partite sono tutte uguali. Sì, è vero, sono sempre tre punti, però sono diverse. E questa chiaramente è una partita leggermente diversa, che non è che deve cambiare quelle che sono le nostre attitudini, non è che possiamo cambiare atteggiamento da una partita all'altra, però questa è leggermente diversa dalle altre, perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che la piazza la sente molto. Noi dobbiamo fare una partita a Cagliarda, dobbiamo far vedere che vogliamo giocarcela, vogliamo stare bene in campo, rispettiamo e abbiamo veramente grande rispetto del Napoli. Il Napoli è la squadra più forte del campionato, secondo me. In questo momento è quella anche che gioca meglio, che è continua, che ha fisicità, che ha qualità. È una squadra veramente brava. Però noi dobbiamo fare una partita senza, ripeto, senza pensare che non abbiamo nulla da perdere. Io lo so perché è un po' galleno e spesso quando capitano queste partite inconsciamente viene fuori questa frase ma tanto con queste si perde. No, si gioca, con queste si gioca, poi è chiaro, loro sono più bravi di noi, lo dobbiamo riconoscere. Però noi la partita la dobbiamo fare, una partita a Cagliarda, una partita attenta, una partita come ripeto che va a curare i dettagli, che va a curare i particolari. E poi a volte succede anche che è l'impensabile, però noi ci dobbiamo lavorare su questa cosa. Non sarebbe togliere nulla a nessuno. Credo che Ribéry, specialmente nell'ultima partita, ci ha fatto vedere che tipo di calciatore è, ma non avevamo bisogno di scoprirlo dal punto di vista tecnico, perché Ribéry dietro ci ha attaccato qualcosa che basta andare a leggere. Insomma, non è che lo scopriamo, non è che l'abbiamo scoperto. Vi devo dire la verità, non mi aspettavo neanche quella vitalità, perché a Venezia Ribéry ha con una botta, tra le altre cose, che gli impediva di correre, ha fatto cose straordinarie fino alla fine. Quindi è normale che Ribéry per noi è un punto di riferimento e nessuno se ne deve prenderla male. Eh certo, insomma, ognuno di noi ha una storia. E quindi sì, Ribéry e il resto è quello che dicevo Pocanzi, insomma, il problema è che qualcuno dovrà giocare del partito, ma da questo punto di vista è un gruppo di ragazzi molto serio, molto concentrato. Non lo so, non lo so, io le considerazioni, quelle motivazioni me le tengo per me, non è che le devo esternare assolutissimamente. Ho un discorso che io, Gagliolo, è un ragazzo che stimo molto, ci mancherebbe, abbiamo parlato, ho fatto sta scelta perché al momento ho ritenuto di fare questa scelta, ma Gagliolo è uno dei titolari di questa squadra perché comunque ha giocato con frequenza prima. E poi ci sta, nell'arco di un campionato, il momento si gioca, il momento si sta fuori, si può rientrare. Tra l'altra cosa, calcisticamente, della rosa della Salernitana è uno di quelli che conosco meglio perché in passato mi è capitato di giocarci spesso contro, quindi lo conosco bene, c'ho grandissima stima di Gagliolo, al momento è stato fuori, poi domani vedremo, io ancora ho più di 24 ore per fare delle scelte. Per cui... Ma le ha fatte nella testa? Nella testa le ho fatte, ci mancherebbe, però c'è ancora un allenamento, lo voglio vedere. C'era la seconda domanda sui tempi sugli infortunati. No, i centrocampisti che abbiamo fuori, non credo che sia una cosa brevissima per quello che riguarda il recupero. Uno dei due, Goulibaly, stiamo cercando di stringere un po' i tempi, ma la vedo... Ora nella testa sto più pensando a quelli che c'ho che a quelli che non c'ho, però il discorso al momento è un po' complicato. Speriamo che dopo la sosta ci si possa riattaccare un po' tutti al gruppo, ma l'altro Goulibaly, l'ultimo che si è fatto male, Mamadou, Mamadou, la vedo forse neanche dopo la sosta, però è tutto da valutare. Grazie.